Buonasera a tutti, per l'arte del cinematografo oggi ci dedicheremo alla post-produzione del film Non c'è più religione. In questa stanza potete vedere il montaggio del film. Sono tutti molto concentrati, qualcuno si sta radioccando, qualcuno dorme. Scusate se vi interrompiamo, il montaggio analogico, in poche parole, mezz'oretta. Non so se... C'ho sempre l'assistente che risponde per me. Non c'è molta omertà rispetto al montaggio analogico, ma noi oggi lo scopriremo. Ma perché vieni da me e mi diede il montaggio analogico? Perché stiamo cercando di capire meglio. Volevamo sapere esattamente che cos'è la timeline. La timeline? Chiedo l'aiuto da Gasman. Proviamo con Alessandro Gasman. Messaggio gratuito. Angela Squiglia. Non risponde. Domanda di riserva. Prego. Che cos'è il jump cut? Il jump cut. Ecco, allora di là è pieno di gente che sta lavorando e che mi aspetta perché hanno chiesto proprio di voi. Stanno cercando qualcosa sotto il tavolo, non capito se stanno cercando il jump cut. Jump cut. Salto del taglio. Jump cut è il salto del taglio. Cos'è il montaggio analogico? Oh, trick 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 trick, come la dialavatrice. Il montaggio analogico è come la lavatrice di Angela Finocchiaro. Che cos'è una timeline? Non lo so. Il jump cut. Non lo so. Il montaggio analogico. Ana. Ciao Claudio, non ci è chiaro il concetto di montaggio analogico, ecco, se magari quando hai anche un po' di tempo puoi aiutarci a rispondere alla nostra domanda. Grazie Claudio.